La presentazione di oggi di Working Capital qui a Milano è stata particolarmente sorprendente per me perché mediamente si assiste spesso a presentazioni di aziende che appunto presentano alle diverse comunità progetti o notizie, sono in conferenze stampa. Oggi era un po' diverso, c'era un mix in sala molto divertente perché c'erano giovani, c'erano giornalisti, c'erano blogger, c'erano professori universitari, c'erano studenti universitari, c'era molta energia. Una cosa che mi ha molto sorpreso positivamente è che c'era un'energia positiva e che credo fosse esattamente lo spirito che Working Capital voleva suscitare. Working Capital è un pezzo, speriamo grande, l'impegno che Telecom ci sta mettendo è proprio in questa direzione del nostro lavoro per far parte sempre più a titolo pieno di un ecosistema digitale nel quale Telecom è un attore fondamentale essendo l'abilitatore della comunicazione e della vita digitale che sta prendendo grande parte della vita di tutti e siamo partiti un anno fa con un progetto che si chiamava A voi comunicare, hanno seguito poi altre iniziative e ora da A voi comunicare siamo arrivati al dettaglio personale perché tocca a te come recita la campagna di comunicazione e tocca proprio a te, a ogni singola persona che dovesse avere delle idee, dei contributi sostenibili da un punto di vista manageriale, professionale. Noi come impresa daremo tutto il supporto alla corretta valutazione di questi progetti anche per risolvere un pezzo importante del momento in cui si trova non solo l'Italia ma certamente anche l'Italia, cioè quello nel quale l'innovazione e la fiducia verso i giovani verso le loro capacità personali e quindi verso il loro futuro è un pochino scemata un po' per la crisi, un po' per una tradizionale attitudine del nostro paese a tenere i giovani in una condizione non di grandissima fiducia invece i giovani lo meritano e crediamo con questo progetto che avremo delle straordinarie opportunità di dare a molti giovani forse un futuro ma sicuramente il modo di mettere alla prova e dare il loro contributo allo sviluppo del paese.